ciao a tutti nuovo tutorial molto semplice veloce giusto perché qualcuno mi ha chiesto come fare alcune cose su creative studio o come poterle gestire perché effettivamente magari sono alcune cose che non si sono capite bene quindi adesso vi farò un video dedicato solo a questo per esempio quando vogliamo fare una grafica e non abbiamo nei blank quindi nei prodotti in bianco qua la dimensione che effettivamente ci serve per un qualsiasi cosa da una calamita a una cover o qualsiasi cosa ci serva cosa facciamo solitamente e dobbiamo creare cene una noi o lo creiamo da un altro programma poi lo importiamo o sennò comunque possiamo creare qui con custom canvas questo tastino il problema che come c'è già scritto qua non si possono salvare quello che lo facciamo le nostre forme le nostre dimensioni non si possono poi salvare quindi magari potete crearvi la vostra grafica su un programma grafico a parte compreso anche design space e poi dopo importarlo qua mettendo una dimensione così comunque la vostra immagine che rimane la potete riprendere x volte e questa cosa del fatto che non salvarlo non ci può interessare una cosa importante è che se per esempio fate la dimensione di una tazza quella più grande che 108 x 222 li faccio create se voi andate nelle gallerie andate importarvi la vostra immagine qua dentro tramite questo tasto tipo questa che ho fatto che in jpeg quando le importate vedete che è leggermente più piccola non è della dimensione che infatti vorrei allora perché faccio questo tipo di premessa perché o voi la importate e poi dopo la ingrandite arrivando alla dimensione che qua vi dice di fianco che vi dice praticamente voi dove arrivate dovete arrivare a 108 x 222 quindi andate avanti fin quando non siete nella dimensione che volete vi fermate avete la vostra dimensione la potete andare a stampare ma se ne voglio farcene stare di più in un foglio a quel punto vado in custom canvas e metto la dimensione di un foglio a 4 che è il massimo che potete stampare tenendo conto che c'è sempre un piccolo margine bianco che dovete comunque considerare quando andate stampare quindi scrivete 210 che è il formato a 4 x 29 7 faccio create in automatico anche questo come vedete si va ad adattare perché è stato studiato per adattare la vostra grafica alla dimensione quindi andremo qua andremo a farlo di nuovo della dimensione che ci serve quindi 108 x 222 abbiamo la nostra formato tazza che ci serviva se dobbiamo importare altre cose non diamo altro che andare in galleria e andare a prendercele e inserirle qui dentro le nostre immagini andare ad aggiungerle qui di fianco quello che ci interessa aggiungere quindi tipo questo piccolo babbo natale uno può prendere può inserirlo qua di fianco e così via e fare praticamente tutte riempire questa questa pagina mandarli in stampa una cosa che non potrete salvarla ma se poi avete tutti i vostri elementi nella vostra nella vostra galleria non fate altro che andare a prendere riposizionarle di ridimensionarli e rimandare in stampa come avete fatto prima altra cosa che potete fare comunque è fare una stampa di più soggetti sullo stesso foglio ma facendolo in un modo differente che metterli in un foglio a quattro come abbiamo visto prima e magari aggiungere e le varie parti potete fare anche la vostra forma come abbiamo fatto prima di 108 per 222 creare quindi creare la vostra forma ricordo che queste non si possono salvare come forme ma comunque se avete fatto la vostra grafica l'avete importata la potete prendere con questo caso dalle vostre immagini la mettete la caricatela ingrandite a seconda della dimensione di che volete farla e quando siete a questo punto andate in stampa che cosa succede nel momento in cui voi mandati in stampa e scegliete tutto quello che vi serve in questo caso dovete fare un formato a 4 poi voglio fare una tazza e metto di vite perché non è una fotografia quando mando in stampa qui vedete il manager che si aprirà nel momento in cui lo manderò in stampa io posso anche in questo caso dire bene questo l'ho mandato in stampa infatti mi verrà nel primo manager la mia forma che è lì ma come faccio aggiungerne alte non faccio altro che tornare qua e lasciare senza mandare in stampa sul primo manager cancellare questo che non voglio più farmi un'altra forma di qualsiasi un'altra tazza che voglio farmi che vorrei mandare in in stampa quindi prendo questa me la giro e poi dopo me la ingrandisco quanto mi serve per esempio è una prova quindi la posso fare così e lo mando anche questa in stampa se nel foglio del mio foglio di lavoro questa questa immagine ci sta quindi devo sempre selezionare le stesse cose le stesse impostazioni sempre c'è la mic mark sempre ti divide in modo che sia tutto nello stesso foglio perché se noi cambiamo queste impostazioni per lui sono lavori differenti questo modo sono tutti lo stesso lavoro quindi possono essere messi tutti sullo stesso foglio quindi devono avere le stesse impostazioni faccio stampa e se il mio lavoro ci sta vicino all'altro aprendo il print manager nel momento in cui arriverà anche questa immagine ma li metterà vicine quindi uno vicino all'altra e mi riempirà il mio foglio se ho altre cose piccoline e le aggiungo nello stesso identico modo come vedrete avrete il foglio sempre più pieno qua potete andare nel layout qua vedete c'è già una voce che dice ridurre gli spazi bianchi e centrare quindi in automatico lui riduce il minimo indispensabile gli spazi bianchi e lo centra quindi vi mette esattamente la vostra immagine vostra immagine e ve le compone sul foglio nel modo esatto potete anche cambiare altre cose qua ma questo comunque l'auto ma l'automatismo e viene comunque molto bene in questo modo possono andarle in stampa le ho tutte e due nello stesso foglio potete fare anche questo metodo per permetterle altra cosa che magari vi può essere utile e se per esempio volete ritagliare una parte dell'immagine perché non vi serve fare il nome ma volete soltanto fare il vostro nome mio metto andate qua dentro a mozzare e potete andare a selezionare la vostra immagine e quando fatto mozzate avete solo questo mio metto che adesso possiamo andare logicamente a ricomporre e fare più piccolo io a questo punto la mia immagine 78 per 75 posso andare nel canvas e scrivere 78 per 75 fare create e come vedete lui dopo dovete sempre adattarvi questa mi va bene la mando in stampa e se questa mia immagine entrerà dentro mettendo sempre stesse impostazioni ceramic mark e vivid se entra dentro il mio documento quanto arriva aprirò un'altra volta il print manager me lo troverò tra nel mio documento se non ci sta mi creerà una nuova pagina vedete mi ha creato una nuova pagina perché tutte non ci stanno fatemele fa vedere due perché è troppo grande se questa la possiamo fare un po più piccola quindi fare un 48 per 48 ci create mila ingrandisco nel momento in cui manda in stampa bisogna andare avanti tante volte così come vedete potete mettere tutte quelle che volete ma non le potete salvare in questo caso stampa se apro il print manager dove trova spazio lui aggiunge come vedete l'aggiunto qua se per esempio un'immagine io non la voglio se vado nei lavori mi fa vedere tutta la mia sequenza di lavori quella più grande non la voglio la posso anche cancellare e quindi togliere facendo con meno in questo caso lui mi ha messo a posto i vari lavori e mi ha fatto diventare un foglio solo con un'immagine una piccola qua quindi potete giustrarvi anche qua potete anche cambiare la misura delle cose se volete per esempio volete selezionare questo vi dice che è 17 per 22 questo è 9 9 per 22 e questo vi dice che 45 per 45 insomma comunque potete anche modificare qualcosa su il print manager nel momento in cui l'avete già mandato in stampa qua sul print manager ancora prima di fare la stampa reale su carta e poi ci sono altri metodi e guardante sempre il mettere insieme più cose per poterle salvare e adesso vediamo un altro modo potete fare anche quei blank cioè con i prodotti in bianco andare qua prendere un formato a4 questo 30 per 21 e 21 per 29 7 più o meno ci siamo lo stesso andiamo adesso prendere le stesse cose che abbiamo preso prima nello stesso identico modo andiamo a caricarci la nostra che sarà più piccola la mettiamo in orizzontale se la vogliamo votare così andiamo a dare quello che dicevamo prima 108 per 222 ora abbiamo messo qua e facciamo la stessa cosa aggiungiamo sulla pagina in questo caso questo lo possiamo salvare quindi possiamo andare dentro a salva e salvarlo nelle nostre cartelle quello di prima no in questo caso invece possiamo salvare tenerci il nostro documento con tutti i nostri pezzi dentro quindi potete fare in diversi modi questo è salvabile l'altro modo no quindi a quel punto sapete come poter fare questa cosa altra cosa come faccio a fare la grafica in altri programmi e portarla qua quindi importarla come png prego svg se non voglio crearmi il tutto qua tenendo conto che nel software ci sono già tantissime cose ci sono i background ci sono legati sono gli elementi con immagini ma questo lo potete fare tranquillamente quindi crearvi la vostra grafica in questo modo qua come abbiamo visto prima e farvela ma la voglio fare esternamente perché qua non c'è c'è delle cose personalizzate ha bisogno di cose particolari quindi la faccio esternamente la potete fare anche in ds quindi in design space come si fa si va su clicca design space io l'avevo già fatta quella che vedete prima viene proprio da lì quindi torna indietro vi faccio vedere un po tutto il procedimento non fate altro che andare a scegliere il vostro progetto della tazza se avete una tazza se no di fatto un riquadro della dimensione che vi serve ma molti siccome vi chiedete la tazza vi faccio vedere la tazza che la cosa magari più richiesta e andate qua scrivendo mag tra i progetti andate qua tra i gratuiti andate a prendere questo che il mag design setup dove vi dà già tutte le dimensioni delle tazze che avete a disposizione quindi il 425 ml la 15 a z quella più grande qui ci sono diversi bordi se vi serve fare uno sfondo colorato con un bordo differente se no prendete il primo che quello dritto fate personalizza sostituiamo vi faccio vedere come l'ho creato questa parte che vedete smussata serve per gli infusi bilinche quando dovete avvolgere la tazza e tagliarne nel momento in cui li tagliate ma siccome usiamo usiamo sogras con dei fogli appositi per sublimazione questa cosa non ci serve quindi la possiamo cancellare possiamo tenere questa guida sotto che serve per centrare le immagini perché la tazza è fatta del suo centro di una parte e dell'altra quindi come vedete la tazza se la tenete in mano avrete una grafica che vedete e una grafica dall'altra parte per chi guarda voi con la tazza in mano insomma e potete caricare quello che volete le vostre immagini andare semplicemente a prendere delle immagini da design space che vi piacciono come avete visto prima ho preso questo e la zampetta e ho fatto aggiungere tele l'ho prese li ho separati ho messo questo qua questo qua ho cercato di centrarli come vedete c'è tra le più possibile su questa base ho fatto la stessa cosa per quello poi ho aggiunto una scritta ho aggiunto il mio nome l'ho messo sotto loro impicciolito e ho creato la mia tazza qua cosa succede succede che se io lo lascio di quel colore viene colorata se lo voglio di fondo bianco intanto posso togliere questo quindi nasconderlo con l'occhio se lo voglio di colore bianco vado qualito colore bianco ma poi quando vado a fare unisci livelli per la stampa questo bordo mi svanisce come faccio per farlo modo da vederlo e poterlo ritagliare nel momento in cui mi serve non faccio altro che dargli un offset quindi un offset logicamente di poco 0,1 lo applico e quando vado a prendere il tutto e faccio unisci livelli come vedete mi fa vedere il bordino mi sono contenta di questo posso andare a fare crea lo potrei tagliarlo direttamente con la macchina con cricket ma posso anche ritagliarlo mettere altre cose di fianco che mi interessano se la tazza più piccola ci stanno due tazze mentre in questo caso non ci stanno quindi cosa facciamo non facciamo altro che fare continua come vedete non ho collegato la mente perché non mi serve non vado a fare invia alla stampante quando faccio invia la stampante togo via smarginatura e utilizzo finestre di dialogo del sistema quindi di stampa la attivo e quando faccio stampa avendo un mac mi finisce dietro alla finestra che qua e io avendo un mac ho già il tasto da poter utilizzare per salvarlo in pdf io lo potrei salvare anche qua ho scritto in altri modi ma pdf è la forma che mi serve la potete salvare anche da pc l'unica cosa che a differenza di mac dovrete andare a scegliere di qua la vostra stampante virtuale che si chiamerà proprio stampante virtuale stampante pdf e vi stamperà un file invece che stamparvi un'immagine sulla vostra stampante io scelgo pdf save as pdf poi posso cambiare il nome scrivere tazza nome e poi dopo andare a vedere la destinazione se lo lascio sulla scrivania ma potete scegliere una cartella quello che mi interessa e fare save adesso vi ha già salvato questa immagine logico cosa succede ci sarà il bordo ci sarà il foglio c'è tutto invece voglio ritagliarla quindi non faccio altro che andare su google semplicemente su internet su google e andare a cercarmi convertire pdf in jpeg e ve ne verranno fuori tantissimi da come come volete voi per convertirli quindi li potete convertire li potete anche ritagliare ecco questo che il primo che mi viene a disposizione vi ha la possibilità di fare tantissime cose tantissime conversioni prima cosa da fare convertiamo il nostro file pdf in jpeg quindi andiamo a prenderla e la convertiamo convertire in jpeg perfetto poi scarichiamo l'immagine andiamo a selezionare qua ritagliare jpg andiamo a selezionarlo andiamo a prendere la nostra il nostro file convertito bene non facciamo altro che selezionare il nostro lavoro quindi mettendoci qua su cui il nostro bordino magari facciamo un po più grosso prossima volta l'abbiamo fatto a questo punto non facciamo altro che ritagliare l'immagine scarichiamo l'immagine facciamo consenti e quando andiamo su il nostro il nostro creative studio non facciamo altro che andare sulla gallerie andiamo su my image andiamo png upload e andiamo a prendere quella che abbiamo appena ritagliato mettiamo ok save e abbiamo ritagliato la nostra immagine fatta prima su cancelliamo questa andiamo a prendere l'ultima abbiamo fatto che siamo ok la ruotiamo e logicamente in questo caso dovremmo farla diventare più grande secondo la dimensione che ci serve che 108 per 222 200 metri tra lo stesso comunque la dimensione questa perché il crop che ho fatto prima non vedendo bene il filo non l'ho fatto proprio esatto però va bene perché tanto quel pelino di tolleranza non è un problema per la tazza è sempre meglio in più che meno come vedete io ho fatto la stessa cosa ho fatto la grafica ho fatto la stessa grafica in in design space come avete visto potete farla dove volete potete utilizzare gli strumenti online che sono molto semplici vi fanno convertire immagini in qualsiasi modo da png a jpeg potete fare gli crop quindi potete tagliarle potete utilizzare quindi potete fare queste cose anche esternamente online senza neanche dover caricare nessun software particolare sul vostro artist che magari vi rallenta il vostro il vostro computer ma la fate un online nel momento in cui vi serve vi tenete tutti i vostri link e le utilizzate in questo modo potete fare tutte le grafiche che volete sul vostro creative studio e utilizzare al massimo il vostro foglio di lavoro spero di esservi stata utile se volete potete seguirmi sui vari social su facebook nel gruppo scambi creativi alimentiamo la creatività su instagram la lì creation 2001 su tik tok sempre come la di creation 2001 e logicamente se vi piace mettete un like a questo video e seguitemi sul canale ciao nel prossimo tutorial nell'info box di questo video troverete tutti i link per il convertitore di immagini e per fare i ritagli se questo video ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale e attiva la campanella ti arriverà una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo video